Da mesi CNA Macerata denuncia la paradossale situazione in cui versa il mercato del lavoro. Nonostante l'alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, per le imprese è quasi impossibile trovare mano d'opera, sia specializzata che generica. Tante sono state le cause additate per questo particolare problema congiunturale, ma poche le soluzioni proposte. La carenza di mano d'opera è una problematica che sta investendo la ricostruzione nell'area del cratere dopo i sismi del 2016. Questo soprattutto dopo l'ordinanza 100 della struttura commissariale e le ordinanze successive che hanno facilitato un'accelerazione nella definizione dei cantieri. La scassità di mano d'opera è legata soprattutto alla ripresa del settore, conseguente all'avvio del 110% degli altri bonus fiscali. Per questo la CNA di Macerata propone per le nostre imprese l'utilizzo delle strutture abitative di emergenza che mano a mano si stanno liberando per poter far sistemare i lavoratori e le loro famiglie all'interno del cratere e nei pressi dei cantieri. Questo per favorire un recupero di produttività per le imprese e per favorire un'ulteriore accelerazione della fase della ricostruzione.